MS 48 444 televoto 16 421 è il momento della nona Ugo Ladoro Vince nella categoria giovani Laura Bono non c'è nessun altro tipo di lavoro che io possa immaginare di poter fare se non ci fosse la musica che entri Peter Pan, Laura Bono eccola qui, la vincitrice di Sanremo Giovani dell'anno scorso, quest'anno a Music Pharma 2006 aspettiamo un attimo, già non hai aspettato abbastanza stasera credo, dietro le quinte ma aspettiamo ancora un attimo, tra poco Laura ci canta un cavallo di battaglia veramente di Gianna Nannini, bello impossibile, tu hai mai detto a un uomo bello impossibile? si è capitato, però è stato possibile poi ah brava, questa è beata a te, beata a te, beata a te a tra poco con Music Pharma, che carattere la musica bello, bello impossibile ho gli occhi neri e il tuo sapore più orientale bello, bello invincibile ho gli occhi neri e la tua bocca da baciare girano le stelle nella notte e io ti penso forte, forte, forte ti vorrei bello, bello impossibile ho gli occhi neri e il tuo sapore più orientale bello, bello impossibile ho gli occhi neri e il tuo gioco micidiale non conosco la ragione che mi spiegherà perché non voglio più salvarmi dalla libertà è una forza che mi chiama sotto la città e se il cuore batte forte non si fermerà è l'alba e l'alba e l'alba e il sole ti dirai che è così bello, bello impossibile per le tue mani scoppia il fuoco che mi brucerà e io non voglio più salvare da questa verità c'è una luce che mi invade non posso più dormire con le tue buonacine nascoste lo vorrei gridare bello, bello impossibile con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale bello, bello incredibile con gli occhi neri e la tua bocca va a baciare girano le stelle nella notte ti penso forte, forte, forte ti vorrei sì, sì, sì bello, bello impossibile con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale bello, bello invincibile con gli occhi neri e col tuo gioco migliore bello, bello impossibile bello, bello impossibile sicuramente la più rock di tutte le partecipanti qui a Music Pharma è pronta la giuria dei 5 più 5 meno 5 nonostante la toaletta dove sono forse tutti durante l'intervallo molto bene, 3, 2, 1, votare! Mixo voto 7 Paolo Giordano Giornale voto 6 postitico, un postitico Marco Mangiarotti voto 7 la badessa della musica italiana Gabriella Venegone voto 6 Mario Luzzatto Fegis voto 7 ecco non sto qui a chiedere perché e per come sicuramente si farà meglio ma è andata benino andiamo a vedere la classifica occhio e croce mi sembra che tu non sia capitano rimangono capitani Franco Califano mi sembra con voto 44 e Alberto Fortis con voto 41 insomma sesta però parimenti con Silvia a mezzanotte puoi essere contenta prego Laura è il momento della decima e un'altra